Abbasso gli alert e parto col monologo Abbasso gli alert e parto col monologo Allora ragazzi, partita che mi aspettavo, vi dico la verità, non così Ma mi aspettavo una partita difficile, mi aspettavo una partita dove Ballardini La preparasse così, nel senso una squadra organizzata, compatta, chiusa Dove comunque ha coperto tutte le linee di passaggio E mi aspettavo, vi dico la verità, anche una Roma poco scintillante Perché viene da un periodo che costa Europa League purtroppo paghi qualche cosa La Roma oggi male, bisogna dirlo, salvo solo il risultato Anche se, secondo me, se una dei vinci dove vince la Roma Perché poi, tranne il palo che è stato fortunoso, il cross, iorente e tutto quanto Sassuolo ha fatto poche niente davanti E la Roma comunque ha costruito le sue polle gol Almeno due o tre, un gol mangiato da Lukaku Perciò, secondo me, la Roma comunque alla fine ha vinto meritatamente Non giocando bene, bisogna dirlo Però, non è che bisogna giocare bene tutte le partite, sta al 100% È vero che nelle ultime partite Fiorentina e questa qui, anche col Brydon La Roma sembra un po' più appannata E qui, ragazzi, c'è il mio discorso Che facevo ieri e che la gente non capisce Voi veramente credete che questa Roma qui possa arrivare al quarto, quinto posto E andare avanti in Europa League Giocando con tutti i titolari giovedì e domenica Secondo me è un'utopia e non ci può fare Purtroppo, vi dico, questa è la prima partita Ne mancano altre due, adesso ci sarà Lecce e Lazio Dopo Lecce e Lazio, in base ai risultati che farà la Roma Secondo me bisognerà fare una scelta che non vuol dire Giocare con i Primavera, col Milan, oppure mette tutte le riserve col Milan La scelta sarà Di Bala Può giocare ogni tre giorni? No, l'abbiamo visto Vabbè che De Rossi è un bravo allenatore Uno che ha idee e tutto quanto Ma come non era Harry Potter e Murigno? Ma non lo è neanche De Rossi C'è qualche cosa che neanche De Rossi può sistemare Di Bala c'è una cronistoria di infortuni Che non è Murigno, a noi Murigno gli possiamo accollare Che giocava male e dichiarazioni Che sviliva la squadra, le pippe E che portava due uomini dentro l'aria invece che 5-6-7 come fanno tutti E che tutto doveva pare Ma non gli potete dire un cazzo su Di Bala che veniva infortunato Di Bala era infortunato anche con la Juventus La Juventus l'ha dato via per questi problemi Spinazzola non è Murigno Spinazzola lo era anche con Fonseca Lo era anche nella Juve Perciò Spinazzola e Di Bala Saranno giocatori che devi scegliere O giocano in Europa League O giocano al campionato E per me è una follia Che giocano in Europa League Deve giocano al campionato Sì è Bayern, Milan E sti cazzi E sti cazzi Ma che devo fare? Figurate quello là che voglio fare no Perché non siamo sportivi così Ma che cazzo me ne frega? La Roma non è che deve essere sportiva La Roma deve, deve, deve La Roma deve andare in Champions League Deve arrivare a questo quinto posto E sarà difficile Avete visto? Avete visto? E voi pensate che tutte le partite sono facili? Allora ad oggi la Roma fa Sette vittorie in campionato con Daniele Trosci Un pareggio e una sconfitta Ma diciamo delle sette vittorie che fa la Roma Tolto il Monzo a fuori casa Che è una bella vittoria Ma stiamo sempre a parlare del Monzo E adesso tutte le squadre che comunque sulla carta sono abbordabili Poi devi vincere le partite Ma sono abbordabili Adesso arriva un ciclo terribile Arriva un ciclo terribile E i giocatori della Roma non ce la fanno A giocare A giocare con intensità, velocità D'esecuzione E ritmo e tutto quanto Ogni tre giorni Ogni tre giorni Perché non è che giochi come la Champions Or martedì o mercoledì Giochi il giovedì E tu giocherai contro una squadra Che giocherai in campionato Con tutte riserve Anche con i Primavera Per poter andare avanti in Europa League E tu non te puoi ammazzare Perché secondo me La Roma è un'utopia Pensare alla vittoria della Champions League Da Europa League Da Roma Vedi che la verità Perché se vado a vedere Le squadre che ci stanno in campo E vedo pure a Roma come gioca In campionato però Vista la classifica Visto la classifica Visto Che davanti c'è il Bologna Dietro l'Atalanta Sto Napoli Non è che ci stai a combattere Con l'Iverpool O il Bayern Leverkus Secondo me ci può arrivare Ma se fai tutte e due Alla morte Rischi De fa' Ne uno e nell'altro La Roma senza Champions Non ci può stare I Frecchi Vogliono la Champions Vogliono la Champions Da Murigno Come la vogliono da De Rossi Cioè sarà un motivo Sta squadra va ricostruita Vanno presi tanti giocatori nuovi Vanno fatte tante cosette Vanno convinti i giocatori a venire Non possiamo fare cazzate È importante ragazzi È importante Io vi dico Oggi secondo me Allora Bellardini prepara la partita In maniera perfetta Devo dire anche che non mi è piaciuta Anche oggi qualche scelta Sua formazione iniziale Nel senso Aguar Va bene Ma se me devi far giocare Aguar come Baldanzio Di Bala Per me c'entra niente Aguar è esterno destro Là in attacco Che lui poi è destro Secondo me E poi in centrocampista Era proprio fuori ruolo E Spinazzola Non avrei mai fatto giocare io Perché questa è una partita Deve giocare Angeligno Perché Spinazzola Che è un giocatore Che giovedì e domenica Può giocare Oggi Cazzarola Che è una partita Che Non è che Sassuola Squadra di gamba Come la Fiorentina Allora dici Oh Non può giocare Angeligno Meglio Spinazzola Oggi Angeligno Secondo me Dova giocare Come Allora Non fai giocare Spinazzola giovedì E fallo giocare oggi E metti Angeligno Col Brighton Però Spinazzola giovedì Domenica E calate Si è rotto Un'altra cosa Che posso dire Su Llorente Questa secondo me Non era una partita Dove devi mettere due Comunque Secondo me Per uscire Da sto pressing Da Comunque Che ha apprezzato Molto bene Il Sassuolo Ha coperto linee passaggio Stava là Tutta ordinata Ci voleva un giocatore Magari che rompe I schemi E io avrei fatto Giocare Hauser Questa comunque È una mia opinione Però a Roma Ha vinto Per carità Male Lukaku Appannato Migliore in campo E Chapeau Oggi Do Nove In pagella A Lorenzo Pellegrini Oggi Lorenzo Pellegrini Si mette Per la prima volta Secondo me La Roma Sulle spalle Proprio Prende un pallone Da centrocampo Smarca Era l'unica modo Per sbloccare Sta partita Smarca Tu giocatori All'angolino Da capitano Vero Oggi voglio fare Un applauso Panchinaro Da Roma E noi Potemmo Di Che potemo Fa E Saravano Un panchinaro Non può Essere Un titolare E uno Che Se però Manca un titolare Non gioca sempre E' buono Ma gioca pure lui Se con continuità Non ce l'ha Non ce l'ha Lukaku Lukaku Ragazzi Voglio Vedere un po' Più De cattiveria De verve Da parte De Lukaku Se no c'è Asmund Che quando è entrato Secondo me Asmund Ha lavorato Tanto A far sic Che a Roma pareggiava Sta partita Ha fatto Una partita Asmund Importantissima Ha lavorato palloni L'ha protetti Ha perso tempo Ha fatto Una grandissima partita Oggi mi è piaciuto Anche moltissimo Mancini Non mi è piaciuto Kasdorp Cristante Ragazzi Cristante Io oggi L'avrei sostituito Già al primo tempo Io lo trovo Proprio Fuori contesto Con De Rossi E' un po' De tempo Che lo dico Secondo me E' un giocatore Che con De Rossi Farà una fatica Pazzesca E a fine stagione Per come vuole giocare lui Io farei un pensiero Per venderlo Vedi Secondo me Non è un giocatore Da 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 quello che vuole Fa De Rossi Parede Buona partita Ordinata Magari qualche fallo De troppo E Aguare Si ha giocato male Però secondo me Anche fuori ruolo Vedo di la verità Angelinio Mi è piaciuto molto Quando è entrato Bene Grandi diagonali Grandi piede Grande piede Grandi cross al centro Secondo me Ha dato un bello spunto Mi è piaciuto molto Angelinio E Svilare Ragazzi Un po' De fortuna Un po' De bravura Oggi Anche Svilare E' stato molto bravo Su un paio De situazioni Ripeto Roma male Se il Sassuolo Se il Sassuolo Avesse pareggiato Sta partita Io credo che Nessuno poteva Dicare Il Sassuolo Aveva rubato nulla Ma se la Roma Ha vinto sta partita Non si può dire neanche Che la Roma Ha rubato nulla La Roma L'ha vinta Giocando male Ma Comunque Meritando qualcosa In più del Sassuolo In base alle occasioni In base a qualcosa Che abbiamo visto di più Questa Secondo me E' la realtà Delle cose Ragazzi C'è da lavorare Molto Soprattutto a livello fisico Sta squadra Cala molto Fisicamente Quando gioca Nei tre giorni Ci saranno due settimane Di sosta Proprio per lavorare In questa maniera Qua Bisogna ritrovare Ritmo Intensità Velocità di esecuzione Un po' quello che avevamo visto Contro l'Inter In casa Il primo tempo In altre partite Perché quando giochiamo A due all'ora Facciamo una fatica enorme Bisogna ricoperare Giocatori importanti Uno su tutti Di bala E ripeto Questi giocatori Purtroppo Quando No adesso Perché adesso c'è Lecce e Derby Quando arriveranno Un'altra volta Le partite ogni tre giorni Secondo Dagiale Andranno gestiti Perché Il quinto posto E' possibile E La vittoria All'Europa League Secondo la mia opinione E' un miracolo Forza Roma Comunque ragazzi Questi tre punti Ci lanciano Aspettando Inter-Napoli Speriamo che l'Inter Non faccia Faccia l'Inter Anche stasera Col Napoli Perché è una vittoria Importante Hanno rinviato Atalanta-Fiorentina Vedremo poi Però noi il nostro L'abbiamo fatto Abbiamo preso Questi tre punti Una giornata in meno Mancano nove giornate Rimaniamo attaccati Comunque al Bologna A tre punti Perciò che dire Forza Roma Monologo Terminato